Sicurezza rafforzata intorno alle sedi diplomatiche occidentali in tutti i paesi a maggioranza musulmana, dove oggi sono attese proteste dopo la preghiera islamica del venerdì, dovute al film su un mauletto prodotto negli Usi e alle vignette blasfeme pubblicate in Francia. A Islamabad, la polizia, circondato le ambasciate occidentali e alcuni edifici pubblici, dopo che il governo ha proclamato un giorno di vacanza per oggi, dedicato proprio al profeta Mahometto. Questo dovrebbe portare a una più ampia partecipazione alle proteste. In Egitto, vari gruppi islamici hanno organizzato una marcia verso l'ambasciata francese al Cairo. L'edificio, come le altre sedi diplomatiche e le scuole francesi, resterà chiuso in Egitto e in altri 19 paesi per motivi di sicurezza. Misure analoghe sono state prese dalla Germania, cortei sono stati annunciati anche in Iran e in Tunisia. In quest'ultimo paese, tuttavia, ieri il Ministero degli Interni ha diffuso un divieto di manifestare. Finora, almeno 30 persone, tra cui l'ambasciatore americano e Libia, sono stati uccise nelle proteste contro le pubblicazioni blasbeme in vari paesi islamici.